Un giorno da Pecora è una trasmissione simpaticissima condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro in onda su Radio Rai ed è una trasmissione in cui i politici si prendono un po' in giro, in cui si stemperano le tensioni del palazzo. Ieri però qualcuno, andando in onda un giorno da Pecora, ha detto delle cose che non avevano nulla di scherzoso e neanche forse di provocatorio, per quanto il protagonista della provocazione ne ha fatto sempre il suo linguaggio principale. Mi riferisco a Oliviero Toscani, il fotografo famoso per le campagne che pubblicizzavano i prodotti tessili di Benetton. Voglio dire anche a volte un provocatore che ci ha fatto riflettere su determinati temi. Proprio per questo giudico gravemente le parole di Oliviero Toscani rispetto al ponte Morandi, al crollo del ponte Morandi, perché ieri Oliviero Toscani ha detto ma a chi interessa se casca un ponte? Voglio farvi ascoltare proprio le sue parole, spero che si sentano bene. Pensa che casca un ponte, ma smettiamola. Ma insomma le persone che sono morte per esempio non gli interessa. Sì, sì, vabbè, comunque non mi interessa questa storia qui. Non mi interessa questa storia qui, a chi volete che interessi se casca un ponte. Sì, c'è interesse ai familiari, dice Giorgio Lauro, ma non soltanto. C'è la ferita nella ferita, c'è un'ulteriore mortificazione di quello che è accaduto. Secondo me Oliviero Toscani dovrebbe risarcire la comunità di quelle persone, la comunità di quei familiari. E vi dico di più, io mi auguro che i familiari querelino Oliviero Toscani. Perché non è una provocazione, non è una battuta. È un pensare, ancora una volta con arroganza, di poter dire quello che ti passa per il cervello senza avere il rispetto per quello che è accaduto a seguito del crollo di un ponte. E mi viene quasi da pensare che tutto abbia un senso evidentemente nella testa di Oliviero Toscani. Perché Oliviero Toscani, secondo me, sta cercando ogni strada possibile per relativizzare la tragedia che ha offuscato l'immagine del suo amico, del suo mentore, Luciano Benetton. La famosa foto che ritrae le sardine con Toscani e con Benetton è una foto che ha un senso nella testa di Oliviero Toscani perché è il modo con cui Oliviero Toscani cerca e pensa di ripulire l'immagine di Benetton. Usa ogni spazio possibile per creare il cortocircuito bene-male. Cioè utilizza le sardine, che dovrebbero essere il bene, per ripulire l'immagine di colui che dovrebbe rappresentare il male. Quindi i purificatori con l'untore, il male con il bene, il buono con i cattivi, i buoni con il cattivo. Quindi tutto questo ha un senso nella testa di Oliviero Toscani che infatti in radio relativizza il dramma del crollo. E allora a questo punto non si può pensare perché sta trascorrendo troppo tempo rispetto a quel crollo e ancora non si sa se la politica, nonostante la magistratura, stia lavorando benissimo perché grazie alla magistratura, grazie alle inchieste della magistratura che sappiamo le modalità con cui Autostrade per l'Italia stava gestendo quel patrimonio che è un patrimonio di tutti perché è un bene collettivo dato in concessione. Chi secondo me sta guadagnando tempo, sta prendendo e sta perdendo tempo è il governo che ancora non ha portato in Consiglio dei Ministri quell'unico atto che va fatto e cioè la revoca o l'annullamento della concessione autostradale. E aggiungo che visto che sono in scadenza alcune concessioni autostradali non dovrebbe, come invece ha fatto il governo, non dovrebbe rimetterle a gara perché dovremmo ricominciare a riflettere sul patrimonio collettivo che stiamo dando in concessione e a chi stiamo dando in concessione. Perché dopo ecco che si finisce con l'imprenditore che ha il suo club di amici che arriva addirittura a relativizzare il dramma di quel crollo. Nulla è casuale, non c'è una provocazione fine a se stessa, è una provocazione che ha un senso nella testa di Oliviero Toscani perché sta facendo di tutto per ripulire l'immagine di quell'imprenditore che pochi mesi fa ha scritto a Repubblica una lettera dicendo che lui è vittima degli haters, degli odiatori seriali in rete. Tutto, come vedete, ha un senso, un maledetto senso. E intanto però quell'autostrada è ancora nelle disponibilità di autostrade per l'Italia. Non c'è stata nessuna revoca. E lo dico allora soprattutto al Movimento 5 Stelle che non può continuare a cavarsela facendo delle dichiarazioni. Deve pretendere che in Consiglio dei Ministri questa revoca o questo annullamento si compia. E poi vedremo, i benettoni vogliono fare causa? Benissimo, facciano causa. Ma toccherà ad un giudice stabilire se il crollo di un ponte rappresenta una giusta causa in questo paese per revocare delle concessioni. Non è che non è accaduto nulla come vorrebbero farci credere. È accaduto un crollo di un ponte dell'autostrada con delle vittime e con tutto quello che poi è successo successivamente. Perché oltre al dramma delle vittime, dei familiari di quelle vittime, c'è anche un minor dramma che è andato a impattare sull'economia reale di Genova, della Liguria. Ecco perché occorre che la politica dia un segnale preciso. Ma si sta perdendo tempo. E io non ho voglia di sentire che ogni giorno che passa qualcuno stia tentando di salvare Benetton. lo fa Oliviero Toscani così come lo stanno facendo anche nel governo dove stanno facendo di tutto per costruire una via d'uscita per Benetton e per Autostrade per l'Italia e anche per quelle banche che hanno finanziato generosissimamente la famiglia Benetton, Autostrade per l'Italia e Atlantia. E lo hanno fatto con generosissime linee di credito perché sapevano che potevano contare su delle concessioni. E questo non va bene. Questo è un comportamento sbagliato. Perché la politica deve dare dei segnali forti. E allora è arrivato il momento di dire con chiarezza in Consiglio dei Ministri e da lì agli italiani cosa intendano fare rispetto alla revoca o all'annullamento delle concessioni autostradali.